Contrasto alle piazze dello spaccio. La Polizia di Stato di Siracusa ha arrestato un uomo e ha sequestrato della droga. Controllo degli agenti mobili coadiuvati da unità cinofili della Polizia di Stato di Catania che sono intervenuti in via Italia Centro 3 per effettuare dei controlli. Durante l'attività è stato sorpreso e tratto in arresto all'interno dell'androne di un palazzo intento a cedere dosi di stupefacenti Stefano Fazio, siracusano di 37 anni, conosciuto alle forze di polizia. Dopo perquisizione personale a cui si è sottoposto l'arrestato, gli investigatori hanno ritrovato 124 dosi di cocaina, 18 dosi di marijuana, un rivelatore elettronico per il controllo delle banconote, una mazza da baseball in legno e 830 euro in contanti. Conclusi le operazioni, Stefano Fazio è stato condotto in carcere. Controllo da parte dei carabinieri dell'ASPE e della Polizia Municipale su Piazza Mergulensi, a seguito di un servizio svolto soprattutto al controllo della Movida, gravitando intorno alla Piazza Mergulensi nell'isola di Ortigia. Elevate due pesanti sanzioni a due pub sorprese a somministrare bevanti alcoliche a minorenne privi di condizioni igienico-sanitarie prescritte. La Polizia Municipale ha elevato 10 verbali per i mezzi lasciati in sosta all'interno dell'aria pedonale, mentre i carabinieri hanno proceduto a identificare alcuni giovani trovati in possesso di alcune dosi di sostanze stupefacenti. Peraltro sono stati rinvenuti nel vicoletto 13 dosi di cocaina per un peso di 4 grammi, 6 dosi di marijuana per 6 grammi, 2 dosi di hashish per un peso complessivo di 1 grammo. Lo stupefacente destinato allo spaccio è stato posto sotto sequestro. Nuove misure su governance, anticorruzioni, principi di concorrenza, selezione dei dirittori di struttura complessa, ma anche di efficacia e trasparenza per rendere policliniche universitari luoghi di ricerca e di formazione e di assistenza. È il contenuto del protocollo d'intesa firmato dalla regione alla presenza dell'assessore regionale alla salute e delle università di Palermo, Messina e Catania alla presenza invece dei rispettivi rettori. Anzitutto ritorna l'era dei concorsi anche nei policlinici. Io ringrazio tutti e tre i magnifici rettori delle nostre università perché hanno condiviso un percorso che è durato un buon anno di lavoro e che ci consegna un protocollo che vi insegna della trasparenza, dell'efficienza e che rende, se posso utilizzare questa parola, i policlinici universitari luoghi di ricerca e di formazione, ma anche dei luoghi di assistenza, così come i più grandi ospedali del mondo. Per la gente cambia, secondo me, che troveranno una maggiore disponibilità a strutture reattive dal punto di vista ospedaliero e soprattutto cambia per i giovani che entrano all'interno delle strutture universitarie. Tante volte il percorso di crescita nelle unità operative universitarie è stato legato più ai profili accademici e meno ai profili assistenziali. Questo protocollo consentirà di far valere di più, almeno nelle scelte che riguardano gli ospedali policlinico, i profili assistenziali su ogni altro. Un occhio attento alla spesa, un occhio attento alle misure anticorruzione, che è un tema particolarmente caro al governo della regione. La Sicilia è una delle prime regioni in Italia ad aver attuato il protocollo ANAC in materia di sanità. Noi abbiamo voluto che questo fosse trasfuso all'interno anche dei protocolli tra la regione e le università siciliane. È un momento particolarmente importante per le tre università siciliane, Catania, Palermo e Messina. Questa firma del protocollo d'intesa con la regione siciliana è un grande traguardo, un traguardo che è stato raggiunto grazie a un lungo lavoro insieme all'assessorato, in particolare all'assessore Ruggero Razza, che mi sento davvero di ringraziare calorosamente per questo lavoro fattivo, fatto insieme, nel costruire un protocollo che disegna davvero i rapporti per il futuro. Rapporti importanti, rapporti tra le università e la sanità siciliana per il bene di tutti i cittadini. È un momento molto importante, come abbiamo detto in conferenza è una sinergia di metodo tra le tre università siciliane e l'assessorato regionale della salute che ha al centro la salute dei cittadini. Per l'Università di Messina è un momento molto importante perché ci sono delle importanti e fondamentali innovazioni tra cui il peso del personale tecnico di laboratorio socio-sanitario dell'Università che svolge l'attività presso il Poliglinico che ha un peso in pianta organica diverso. Questo per noi ci consente di sviluppare la didattica della ricerca e ha delle innovazioni molto importanti. Di questa sensibilità e di questa attenzione ringrazio molto l'assessore Ruggero Razza. Sì, è un protocollo molto importante naturalmente, un protocollo molto atteso perché era un passaggio fondamentale che mette chiarezza in tutta una serie di aspetti, che definisce bene la struttura delle nostre aziende policliniche, che d'altra parte definisce bene i presupposti per il rapporto con le altre aziende sanitarie per la creazione delle reti formative. Ci sono dei passaggi importanti anche sulle procedure di nomina dei primari. Insomma, credo che si sia fatto un buon lavoro. Io credo che il sistema sanitario ne possa trarre grande giovamento. A questo punto i passaggi successivi, cioè quelli degli atti aziendali e poi delle dotazioni organiche, insomma, consentiranno ai nostri policlinici di avere quella piena e completa funzionalità e operatività di cui certamente la nostra regione ha bisogno. Nessuna eliminazione degli stalli auto per diversamente abili da Piazza delle Poste. L'amministrazione comunale non ne ha ordinato alcuna eliminazione. La rimozione della segnaletica verticale è stata opera di qualche privato e presto si interverrà per ripristinarla. Ad affermarlo l'assessore alla mobilità e trasporti Maura Fontana rispondendo ad accuse mosse attraverso la stampa. Non avremmo mai potuto cancellare quei posti, sottolinea, senza aver prima individuato un'area vicina sostitutiva e in questo senso ci siamo già mossi. Oltre un mese fa abbiamo emesso un'ordinanza che prevede di spostare gli stalli per diversamente abili di Piazza delle Poste in via Riva Nazareosauro, ma nessuna disposizione operativa in tal senso è stata ancora data. Enzo Vaccaro, già componente della segreteria provinciale della CGL, è stato nominato presidente del comitato IMSS. L'elezione è avvenuta all'unanimità. Enzo Vaccaro, 63 anni infermiera, al pronto soccorso ha guidato per otto anni la funzione pubblica della CGL. Da otto anni è nella segreteria provinciale del sindacato, con ruolo organizzativo, ma prima ancora si è occupato di sanità. Ringrazio la CGL per avermi segnalato per ricoprire questo ruolo, così come ringrazio il comitato che mi ha votato all'unanimità. Cercherò di essere all'altezza, garantisco il mio massimo impegno, dice Enzo Vaccaro, che onorerò con la massima onestà intellettuale. Ovviamente quello che il comitato IMSS andrà a svolgere sarà un lavoro collegiale. Un passo tecnologico importante per il comune di Canicattini-Bagni, che aderisce al sistema di pagamento digitale online PagoPà per facilitare cittadini e imprese in inversamenti per i servizi richiesti. Il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni diventa realtà Canicattini. Consente ai cittadini, PagoPà appunto, di utilizzare gli strumenti di pagamento quali carte di credito a debito in conto e sistemi di pagamento alternativi accettati dalla pubblica amministrazione, dalle banche poste e altri istituti di pagamento, aderenti all'iniziativa come Tabacchini, Consisa, Lollottomatica, Bancomat e grandi catene di supermercati. In questi anni la pubblica amministrazione, sottolinea il sindaco Marilena Miceli, è interessata, come d'altra parte la società, dall'evoluzione digitale, per cui anche il nostro comune si sta adeguando col sistema PagoPà a fornire agevolazione al cittadino e alle imprese, che di sicuro lo troveranno più agevole e veloce del metodi tradizionali per effettuare i pagamenti nei confronti dell'ente. In questa fase pagamenti possibili sono quelli in modalità spontanea e pertanto abbonamento trasporto all'unipendolari, buonimensa, deposito cauzionale per restauro cappella, rete idrica e tumulazione provvisoria, diritti pubblica affissione e pubblicità, laccio rete idrica, multe e ancora retta silo nido su app e ufficio tecnico. Appuntamenti alla Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, sabato 8 febbraio alle ore 16, la sesta giornata mondiale contro la tratta di esseri umani voluta da Pava Francesco. È il momento di preghiera animato dai religiosi diocesani in collaborazione con l'ufficio Migrates e la Fondazione Sant'Angelo Americi e la Comunità Papa Giovanni XXIII, presso la Cappella del Santissimo in Basilica, sarà trasferito in streaming dal sito del Santuario Madonna delle Lacrime alle ore 16. Anche a Siracusa il 9 febbraio arriverà poi la statua pellegrina della Madonna di Loreto, protettrice degli aeronauti. La statua, nella settimana dedicata all'attenzione alla preghiera per gli ammarati e il mondo della salute, prevede un programma con arrivo alle ore 16, arrivo all'effigio e presso il sagrato della cripta del santuario con trasporto al cura della circoscrizione aeroportuale di Sigonella. Alle 16.30 la statua della Madonna, portata a spalla lungo i viali del santuario da quattro militari del distaccamento, sarà accompagnata dalla processione con la partecipazione degli ammalati militari di tutti i fedeli. Alle 17.30 Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo di Siracusa. Dopo la Santa Messa l'effigio della Madonna sarà traslata presso i locali del distaccamento dell'aeronautica militare di Siracusa in via Lorina.